L'europea ma anche le comunali nel vivo da Matteo Renzi e Matteo Salvini passando per Raffaele Fitto e Maurizio Gasparri è di nuovo callata di big, il leader di Italia Viva a Bari chiede alle dimissioni del governatore Emiliano, il PD presenta la lista per Bruxelles e in serata arriva anche il generale Vannacci. Droga, soprattutto cocaina, 14 misure cautelare eseguite all'alba dai carabinieri a Minervino Murge nel nord barese, in nove finiscono in carcere, in cinque domiciliari presunti appartenenti a tre diversi gruppi dediti allo spaccio nel centro in questione. La fanfara della Polizia di Stato in concerto a Potenza, cultura e istituzioni insieme in un appuntamento che coincide con la riapertura dell'unico teatro storico lucano al termine dell'intervento di riqualificazione dell'edificio in piazza Mario Pagano. Di nuovo insieme buon pomeriggio, l'informazione da Puglia e Basilicata che si apre stavolta con la politica perché è già di nuovo calata di big che si tratti delle europee o delle comunali. Fatto sta che l'election day di giugno è sempre più vicino e allora nel weekend è tornato in Puglia il ministro per gli affari europei Raffaele Fitto, oggi lo fanno anche Matteo Salvini e Matteo Renzi e poi in serata anche il generale Vannacci in quota alla Lega per gli scanali di Bruxelles. Andiamo per ordine, questo è Raffaele Fitto. Noi vogliamo che l'Italia sia centrale per cambiare quello che non funziona in Europa e questa Italia che cambia oggi può cambiare l'Europa. Sono le parole di Giorgia Meloni su cui Francesco Ventola tesse il discorso elettorale dal palco di piazza Vittorio Veneto a Canosa di Puglia. Il consigliere regionale nonché capogruppo di Fratelli d'Italia parla di voto utile per rafforzare la posizione della premier Giorgia Meloni e dunque del governo. La presidente del consiglio con un consenso elettorale attualmente molto forte può rappresentare le esigenze del nostro paese in un'Europa che cambia, ha ribadito il ministro delle politiche del sud Raffaele Fitto. Dare forza a Giorgia Meloni vuol dire dare forza all'Italia, vuol dire consolidare il lavoro fatto in questo anno e mezzo e rappresentare una prospettiva per il futuro. In questo senso sicuramente la candidatura di Francesco Ventola, avendo la possibilità delle tre preferenze, rappresenta una candidatura ben radicata a questo territorio che da sempre ha avuto modo di dimostrare concretezza nell'azione, anche soluzione dei problemi e sicuramente può rappresentare per il sud in modo particolare per questo collegio la voce sulle esigenze forti che in Europa possono essere in grado di incidere in modo concreto. Sul palco confitto, al fianco di Ventola, anche il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato che considera il voto in Europa a Fratelli d'Italia anche un modo per metter fuori dal palazzo di vetro del capoluogo di regione l'antipolitica facendo riferimento al governatore Michele Emiliano. Francesco Ventola parla di contenuti, sostiene di ciò che serve al sud per abbracciare il messaggio del governo centrale ed essere rispettabili in Europa. Le nostre realtà, queste rappresentano la propria ricchezza, ragione per cui in Europa per difenderle, sostenerle e rilanciarle. Da oggi facciamo partire una mozione di sfiducia nei confronti di Emiliano attraverso una raccolta firme, una petizione, chi vuole può sul nostro sito chiedere le sue dimissioni, se è stato salvato in regione dai voti di Conte e di Calenda. Così Matteo Renzi questa mattina nel capoluogo annunciando la mozione di sfiducia non nelle istituzioni spiega ma con una raccolta firme gli Stati Uniti d'Europa hanno bisogno di leader coraggiosi e credibili e Emiliano invece il passato. Ha detto, ve lo facciamo ascoltare tra un attimo, invece a proposito di europee è stato il giorno nel quale il PD ha sollevato il sipario sul poker di candidature per Bruxelles a partire da quella di Antonio De Caro. Quattro candidati da quattro province, destinazione Bruxelles. Sono Antonio De Caro, due volte sindaco di varia presidente nazionale del Lanci, la vice sindaca di Aradeo, Georgia Tramacere, operatrice culturale Shadi Alizade, avvocata esperta di welfare aziendale di genere nata a Barletta e Gian Mario Spada, impiegato amministrativo tarantino e segretario provinciale dei giovani democratici il poker che il partito democratico pugliese sfodera per le europee. Quando è iniziato a fare politica avevo appena 35 anni, ironizza il sindaco De Caro guardando gli altri tre che lo accompagnano in questo lungo mese alla volta di Bruxelles, rigorosamente tutti under 37. Stanno conducendo una campagna elettorale bella sui temi dell'Europa, dei diritti, dei diritti delle donne, dei diritti del lavoro per portare a casa il salario minimo e quindi è una bella campagna elettorale. Un'Europa che è stata più vicina a noi in questi anni, ci ha teso la mano attraverso i finanziamenti dei fondi strutturali. La paura è che però con i fondi europei, con i fondi del PNRR apriamo questi edifici per offrire nuovi servizi e dall'altro lato però con l'autonomia differenziata di questo governo rischiamo di perdere le risorse per tenere aperte poi queste attività e per offrire questi servizi nuovi alle nostre comunità. E adesso le comunali una sfida generazionale contro l'affaticamento del centro-sinistra a prescindere dalle inchieste il capogruppo al Senato degli Azzurri Maurizio Gaspari è tornato ieri in Puglia, tour ma anche tappa nel capoluogo per tirare la volata a Fabio Romito dal centro-destra. Una partita di rilevanza nazionale non per buttare in politica le questioni giudiziarie che hanno travolto il capoluogo ma per rispondere con una svolta generazionale all'affaticamento generale dell'amministrazione. Maurizio Gaspari torna in Puglia e a Bari, il responsabile enti locali di Forza Italia c'era stato l'ultima volta per difendere la decisione dei suoi di chiedere accertamenti al Viminale sulle condizioni per lo scioglimento del Consiglio Comunale ci torna in un tour che lo porta nei centri al voto come Bari appunto a stretto giro dalla presentazione della lista forzista per Palazzo di Città che usa per rivendicare l'unità della coalizione ovunque da Vercelli a Caltanissetta. È stata fatta una scelta innovativa perché il centro-destra, io vengo da Lecce dove all'opposto abbiamo chiesto ad Adriana Polibortone di candidarsi come alfiere del centro-destra, a Bari invece Fabio Romito rappresenta un'altra generazione del centro-destra, questa dimostrazione che la nostra coalizione è unita dalle elezioni di Vercelli dove ero ieri a quelle di Caltanissetta dove andranno i prossimi giorni passando per Pescara, per Bari, ovunque, quindi il dato principale che qui si evidenzia visto quello che gli altri invece registrano, la coesione del centro-destra e questo è un dato positivo che anche a Bari abbiamo fatto una scelta tutti insieme, ringrazio il nostro candidato Romito. Sì, io ringrazio tutti i partiti della coalizione per la disponibilità, l'energia e la passione che ci stanno mettendo in questa campagna elettorale, non mi hanno mai fatto sentire solo fin dal primo giorno e la presenza qui oggi di Maurizio Gasparri ne è piena testimonianza. E a Lecce intanto, altro capoluogo al voto, è botta e risposta a distanza tra Adriana Polibortone e Carlo Salvemini, lo fanno dai rispettivi palchi, il sindaco uscente tuona contro le continue sbavature politiche dell'altra parte, per strada mi dicono Ati spicciato, dopo ci siamo noi, perdonerete la pronuncia poco ortodossa, sì ma per fare cosa? Chiede Salvemini. In un crescendo di adrenalina politica inizia e botta e risposta tra i big in corsa per Palazzo Carafalecce, dai rispettivi palchi Polibortone e Salvemini non si risparmiano parole al vetriolo, fa tremare il cinema Massimo Carlo Salvemini con la sua analisi del centrodestra. Esiste una generazione di amministratori, conversando l'espressione più alta, che vive l'impegno come servizio, che non ha l'ossessione del potere, che considera il potere, non destine a se stesso. come quando uno vuole originalmente ricordarci anche con certe sbagliate di stile, pure io sono già ripetito, lo sapete? Quando l'incontro sento i miei che ricordano come nelle strade, mi ha disfacciato. Non si capisce bene in corsa, no? Per il pietro non ci siamo, no? Ma per fare in corsa, per fare in corsa, giusto dovete sentirti paroli di un palazzo che è di tutti e che abbiamo aperto a tutti e che lo diamo per creare aperto a tutte e a tutti di un esercizio, di democrazia e di una vostra e di un ritmo alla felicità di nessuno. Questo fa sorridere i nostri avversari. La cronaca era soprattutto locale, la clientela dei tre gruppi di spacciatori di droga quasi esclusivamente cocaina, sgominati a Minervino Murge, cittadina con poco meno di 10.000 abitanti dai carabinieri del comando provinciale della BAT. Bovio, dal nome della piazza principale di Minervino Murge, in cui si spacciava la cocaina, è l'operazione dei carabinieri della sesta provincia pugliese per cui nove persone sono finite in carcere ed altre cinque agli arresti domiciliari. Stiamo parlando di una piazza, anche una delle più belle piazze di Minervino, per cui diciamo che era una ferita aperta che non potevamo tollerare. Le accuse a carico dei presunti componenti dei tre gruppi dediti allo spaccio di cocaina sono di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla procura di Trani, gli acquirenti delle sostanze stupefacenti da Minervino raggiungevano le tre piazze del paese, diventate il cuore del commercio illecito. Per evitare l'incontro fra spacciatore e acquirente molto spesso si lasciavano i soldi da una parte e la droga dall'altra e al telefono appunto si comunicava questo dettaglio, vai lì che trovi i posti che mi hai chiesto e quindi si capiva che ovviamente per quanto criptica la conversazione aveva dei nesti logici non perfettamente lineari. Le attività di spaccio, secondo quanto accertato dai militari, sono avvenute in maniera stabile e duratura nel tempo. È cominciata dalla percezione di alcuni reati pretadori sul territorio perché poi, ripeto, non è solo la vendita di sostanze stupefacenti, è tutto quello che porta. Furti, taglieggiamenti anche a livello familiare per procurarsi il denaro per acquistare lo stupefacente, più naturalmente questo via vai che non è bellissimo perché nelle nostre piazze noi dobbiamo solo andare a passeggiare e a portare i nostri figli. Ci spostiamo a Francavilla Fontana, nel Brendisino vanno avanti le indagini sull'attentato esplosivo, i danni del patron di Crismel, Sergio Lippolis, emergono però nuovi dettagli e l'imprenditore in passato avrebbe già ricevuto un avvertimento. Nel 2021, così come almeno un altro imprenditore della zona PIP di Francavilla Fontana, Sergio Lippolis, patron di Cribel, azienda leader nel settore dell'arredamento, fu già avvertito con una lettera in odor di estorsione lasciata davanti ai cancelli del suo magazzino da due uomini a bordo di una moto. L'indiscrezione arriva da fonti giornalistiche, pur priva di conferme da parte del diretto interessato, segna uno scenario inquietante, capace di indirizzare in qualche modo le indagini dei carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana. All'epoca la vicenda non diventò mai una notizia, ma fu comunque denunciata alle autorità competenti. Ora, alla luce dell'attentato esplosivo di venerdì notte, quell'episodio assume un significato ben diverso. Di certo, gli investigatori dell'arma non escludono alcuna pista e hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate in zona. Una su tutte, quella a ridosso dell'ingresso dell'abitazione di Lippolis, che ha ripreso l'arrivo di un furgoncino da cui scende il bombarolo, poi in fuga insieme ad almeno un complice dopo l'esplosione dell'ordigno. I danni al cancello e al muro perimetrale danno la dimensione della pericolosità della bomba di fattura artigianale dall'elevato potenziale. Ben più gravi, invece, le ferite psicologiche lasciate a chi svegliato di soprassalto di notte era in casa, a letto, con i suoi cari, prima dell'esplosione, prima del terrore. A Foggia, la novità invece è il ritrovamento di un ordigno, però si tratta di un ordigno bellico. Continuano i lavori di messa in sicurezza dell'area interessata dal ritrovamento dell'undicesimo reggimento Genio Guassatori, per esempio, in questione. Nelle scorse ore sono arrivati i mezzi specialistici dei militari della Brigata Pinerolo. A Foggia continuano i lavori di messa in sicurezza dell'area interessata dal ritrovamento dell'ordigno bellico dell'aviazione militare americana della Seconda Guerra Mondiale, avvenuto lo scorso 9 maggio in un cantiere di via Spalato. Proprio nelle scorse ore sono giunti sul posto i mezzi militari dell'unità specialistica della Brigata Pinerolo dell'undicesimo reggimento Genio Guassatori per l'avvio dei lavori preparatori alla bonifica definitiva della zona, che verosimilmente prevederà entro le prossime settimane il disinnesco dell'ordigno con eventuale evacuazione dei cittadini residenti nelle aree limitrofe. Al momento le attività sono volte allo scavo per poter circoscrivere l'esatta area di intervento. Il comando di polizia locale del comune di Foggia già nelle scorse ore ha provveduto ad interdire il traffico veicolare nel tratto compreso tra Vico Cervo e l'incrocio con via Onorato. Nella strada sarà consentito solo il transito dei mezzi dei residenti al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni previste dai protocolli legati al ritrovamento di ordigni bellici in coordinamento con le istituzioni prefettizie. Cambiamo nuovamente argomento al Politecnico di Vari, si parla di innovazione così. Aprirsi al futuro opportunità e sfide dell'Open Innovation. Questo è il titolo del convegno che si è tenuto al BIMP boosting del Politecnico di Vari. L'incontro è rivolto in particolar modo all'ecosistema dell'innovazione pugliese. Importante sostiene il rettore Cupertino sfruttare al meglio i fondi europei e soprattutto proiettare i giovani e le imprese in uno spirito intuitivo e manageriale che possa garantire prospettive interessanti. È indispensabile aiutare la capacità delle imprese di fare innovazione anche di rischiare su sentieri che magari richiedono degli investimenti anche da parte pubblica. Ci sono una serie di strumenti che si rivolgono anche alle piccole e piccolissime imprese come i Minipia rispetto alle quali il Politecnico sta per aprire uno sportello di ascolto delle imprese con le quali intendiamo aiutare i piccoli soggetti ad accedere a questo tipo di finanziamenti che prevedono anche delle attività di innovazione. L'innovazione significa cercare nuove soluzioni, cercare nuovi processi, cercare di adottare le nuove tecnologie per affrontare nuovi mercati. Le piccole e piccolissime imprese rappresentano l'ossatura del sistema produttivo regionale e dobbiamo mettere nelle condizioni questi soggetti di poter crescere dimensionalmente. Ci sono strumenti regionali, ci sono strumenti europei ai quali ancora accediamo troppo poco. Bisogna crescere con la cultura dell'innovazione e in questo il Politecnico di Bari è pronto a giocare un ruolo importante. Firmato a Taranto il protocollo d'intesa tra il commissario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese e il sindaco di Brindisi, Pino Marchionna, alla città adriatica. 10 milioni di euro per ammodernare stadio e palazzetto. Brindisi, una città importante sotto l'aspetto sportivo chiaramente e Brindisi avrà sicuramente per lo stadio, oltre allo stadio anche per opere di contesto del Palapentassuglia. 10 milioni di euro per Brindisi, 6 per il rifacimento dello stadio Franco Fanuzzi, 4 per le opere di contesto del Palapentassuglia. Il commissario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese e il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, hanno firmato presso la cittadella delle imprese di Taranto il protocollo d'intesa definitivo. Siamo molto contenti di aver raggiunto questo obiettivo perché l'impiantistica sportiva Brindisi è stata un po' trascurata nel corso degli ultimi anni e quindi questo rilancio è assolutamente ben augurante, non solo per i due interventi già previsti su cui fermeremo questo protocollo, ma noi speriamo anche per una maggiore attenzione futura a tutta l'impiantistica sportiva, soprattutto quello che riguarda le società dilettantistiche. Un'opportunità importante per Brindisi che, chiarisce il sindaco, non andrà in contrasto con i lavori che hanno già interessato il Fanuzzi la scorsa estate. Sono praticamente i giochi di Taranto, con capitale Taranto, ma che chiaramente vedono protagonista tutto il grande Salento, quindi Brindisi, la città di Brindisi, Lecce e tanti altri comuni del territorio importanti. Siamo arrivati chiaramente a 275 milioni e quindi per questo sicuramente il governo ha impegnato non soltanto i primi 150, ma la determinazione a portare avanti con altri 125 milioni impegnati ci hanno dato la possibilità di fare tutto quello che dobbiamo fare. Da Stadi e Palazzetti agli ospedali, la ASA di Lecce ha discusso di quello di Casarano. Ho sottolineato come la comunità di Casarano, del comprensorio di Casarano, si è stanca di vedere essere considerato l'ospedale Ferrari come un serbatoio di acqua, di risorse, dove quando c'è bisogno per gli altri ospedali si viene ad attingere continuamente il personale dal nostro ospedale. Si è fatto portavoce delle istanze e delle richieste del territorio il dottore Claudio Casciaro, presidente del comitato Pro Ferrari, il quale nella mattinata di lunedì ha preso parte al tavolo organizzato dalla presidente del consiglio regionale Loredana Capone presso la sede dell'ASA di Lecce. All'indomani delle proteste sollevate dalle sigle sindacali, dai cittadini e dal comitato stesso, nate in seguito al trasferimento di due anestesisti dal presidio ospedaliero di Gallipoli, proprio al Ferrari di Casarano. Una decisione che impedisce la chiusura anche del reparto di rianimazione già sotto personale medico con sei unità operanti a fronte delle dodici previste. Tante le richieste fatte al direttore generale dell'ASA di Lecce Stefano Rossi, presente all'incontro insieme al sindaco di Casarano Ottavio Denuzzo, alla direttrice sanitaria del Ferrari Gabriella Cretì e ai segretari provinciali dei sindacati, tra cui la riorganizzazione ospedaliera del territorio salentino, per il quale oltre a garantire assistenza sanitaria tutto l'anno, ai residenti nel periodo estivo si aggiunge l'elevato numero di turisti. Non possiamo convogliare la richiesta di sanità dell'intera provincia su un solo ospedale e quindi ritengo che gli ospedali di Copertino, Galatina, Casarano e Gallipoli debbano sedersi intorno ad un tavolo per riorganizzare la rete ospedaliera e anche la qualifica degli ospedali stessi. Da parte della Presidente Capone c'è stato un impegno abbastanza preciso e abbastanza forte di rivedere le problematiche del Francesco Ferrari e contemporaneamente l'impegno ad avviare quanto prima, possibilmente entro giugno, questo tavolo di concertazione con le altre realtà territoriali. Il Comitato Pro Ferrari intanto continuerà a vigilare sulle promesse fatte. A brindisi intanto è giallo sul deposito Edison. Giallo sul futuro del deposito costiero GNL Edison nel porto di Brindisi con la smobilitazione del cantiere che aveva fatto parlare in città di una possibile rinuncia al progetto e la nota dell'azienda nelle scorse ore che ha comunicato e chiarito che non è stata decisa alcuna rinuncia al progetto con la smobilitazione del cantiere in corso conseguente al termine delle attività preliminari e aggiungendo che l'autorizzazione unica consente l'avvio dei lavori entro dicembre 2024. Una posizione ufficiale che però per molti lascia ancora diversi dubbi. La smentita di Edison è poco convinta nel senso che ha detto non abbiamo ancora preso alcuna decisione, abbiamo tempo fino a dicembre 2024. Però io penso che occorra chiarezza, non si può tenere tra virgolette in ostaggio una città con un progetto che a questo punto manifesta tutte le sue difficoltà nella realizzazione. Edison dovrebbe chiarire se ha il fondo complementare del PNRR perché l'ingegner Mattana qualche mese fa disse in commissione che senza quel fondo non avrebbero realizzato l'impianto e quindi evidentemente secondo loro senza questo investimento pubblico non ha reddittività. E' quello che asserisce oggi Edison che è poco convinta e poco convincente. Io spero che facciano chiarezza soprattutto cominciando a farci capire se hanno ancora il sostegno dello Stato attraverso il fondo del PNRR. La fanfara della Polizia di Stato in concerto a Potenza, cultura e istituzioni insieme in un appuntamento che coincide con la riapertura dell'unico teatro storico. Lucano al termine dell'intervento di riqualificazione che ha interessato l'edificio di piazza Mario Pagano. Cultura e istituzioni vanno a braccetto a Potenza. Il teatro stabile, riqualificato e rinato in piazza Pagano vede partire il maggio potentino con l'esibizione della fanfara della Polizia di Stato. Grande protagonista la musica che è anche una forma di omaggio per l'attività resa quotidianamente nel territorio. All'esterno esposto inoltre il camper azzurro con in bella mostra apparecchiature come precursore, autovelox ed etilometro ma anche le nuove vetture performanti da usare per il trasporto organi e servizi speciali. Dunque un omaggio al lavoro istituzionale che si mischia anche con un ritrovato patrimonio cittadino. Siamo molto presenti nel territorio, abbiamo rafforzato i dispositivi, i servizi e stiamo come dicevo anche ottenendo ottimi risultati per quanto concerne il contrasto e la repressione dei delitti predatori. Abbiamo fatto decine di incontri di educazione stradale in tutta la provincia, il progetto Icaro, il progetto Bici in scuola e altri progetti simili. Stiamo anche allargando la nostra attività di educazione stradale anche ai lavoratori. Non siamo noi che parliamo. Siamo noi che diciamo qualcosa ma loro sono parte attiva in questi incontri, diciamo non svolgono un ruolo fondamentale. Ada Vetrana un gran premio in bici, un'occasione in più per promuovere la cultura dello sport e del territorio. 90 bikers da tutta la Puglia per la quarta tappa del Gran Premio XC, inserita nel programma delle gare organizzate da bici in Puglia. Cinque giri, sei chilometri di strade sterrate ad alta percorrenza, salite e discese, due tornanti, eppure la fatica è alleviata dallo splendido contorno, quello della Marina Piccola di Avetrana. Com'è andata? Oggi è andata molto 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 bene, ci sono stati tanti bikers arrivati qui ad Avetrana provenienti da tutta Puglia, sono partiti da provincia di Bari, provincia di Lecce, Brindisi, Taranto. Grandi nomi hanno padroneggiato il circuito pugliese, una dura prova di muscoli ma non solo per uomini. L'unica donna oggi è l'eccezione o è sempre così? Diciamo che è sempre così, mi dispiace infatti che sono sempre poco osso, mi trovo sempre da sola. È stata una gara abbastanza tecnica, poi c'era un panorama fantastico, si vedeva in fondo il mare, bellissimo. Portare qui ad Avetrana tante persone per un evento sportivo è non solo motivo di promozione dello sport, della cultura dello sport ma anche promozione del territorio in quanto queste manifestazioni, competizioni come li vogliamo chiamare e ci portano a scoprire quelli che sono i posti, i luoghi, la macchia mediterranea. E certo anche la competizione, la bramata è sudata vittoria e Mattia Calabriso il più veloce all'arrivo della gara lo sa bene. È bellissima gara, sono contentissimo della mia prestazione, complimenti agli organizzatori per l'organizzazione. Ed è tutto, ci fermiamo però torniamo tra poco con le notizie da Bari, Matt e Foggia, state con noi. Rimani connesso, scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud, più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata. Seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo.